Breaking News di calciomercato. La Juventus avrebbe richiesto ufficialmente al Milan Pier Calulu. Pier Calulu che piace tanto alla dirigenza bianconera, che piace tanto a Tiago Motta. Tiago Motta che avrebbe individuato in lui, dopo aver ricevuto uno secco da Todiboh, che ha preferito la Premier League, avrebbe individuato in lui e avrebbe comunicato a Giuntoli la volontà di prendere Pier Calulu. Per la sua duttilità, perché è un giocatore giovane, dall'alto potenziale, dall'alto possibilità di vederlo crescere con la maglia bianconera. Risposta del Milan che è già arrivata, Calulu non è sul mercato, a meno che arrivi un'offerta importante, ma soprattutto a titolo definitivo. Quindi il Milan andrebbe a cedere Pier Calulu per una cifra superiore ai 18 milioni di euro, che sarebbe una plusvalenza totale, perché ricordiamo che Calulu è arrivato per 500 mila euro qualche anno fa in Rosso Nero e quindi sarebbe una plusvalenza totale, ma il Milan vuole l'obbligatorietà nell'operazione, vuole il diritto obbligatorio, vuole iscrivere a bilancio già la cessione a titolo definitivo di Pier Calulu. Quindi Pier Calulu che potrebbe lasciare il Milan, il Milan in cui non è un titolare, in cui al centro è arrivato Stanislav Pavlovich, a destra è arrivato Emerson Royal, quindi sì, è un giocatore duttile, è vero, ma è anche chiuso, perché al centro c'è Gabbia, c'è Malik Chao, c'è Tomori, c'è lo stesso Pavlovich, a destra abbiamo Emerson Royal, abbiamo Calabria, abbiamo in rosa anche Florenzi, quindi tante, tante alternative. E con la cessione, l'ipotetica cessione di Calulu, il Milan potrebbe investire quel tesoretto su un obiettivo importante, che è l'obiettivo del mediano, quindi averla liquida subito per alzare l'offerta per Fofanay e regalarlo subito a Fonseca. Ma se il Milan, faccio un passo indietro perché molti su Instagram ce l'hanno chiesto, ma se il Milan chiedesse una contropartita alla Juventus, tu chi prenderesti? Questi tanti, ovviamente sui social dicono, ipotizzano lo scambio Calulu-Chiesa con la Juventus, con Chiesa che ricordiamo la scadenza di contratto, quindi una cifra intorno ai 20 milioni di euro, magari con un piccolo, leggero conguaglio da parte del Milan, prevale all'esterno. Ma Chiesa non è una priorità, Chiesa non è assolutamente una priorità, perché il Milan davanti ha veramente un bel parco di giocatori e tante alternative. A destra c'è Ciuqueze, può giocarci Pulisic, c'è Saleme Kerr, dall'altra parte c'è Ciocafor, c'è Leao, in mezzo c'è sempre Pulisic, potrebbe esserci Loftus-Cic, c'è Liberali, davanti ci sono Jovic, Morata, quindi tante alternative, ma io dico, se dovesse andare a chiedere una contropartita alla Juventus, probabilmente al netto degli infortuni, ma con un ricco conguaglio da parte della Juve, nei confronti del Milan, quindi ipotizzerei un 15 milioni di euro offerte della Juve, più il cartellino di Arkadiusz-Milic. Arkadiusz-Milic che è sul mercato, che è ai margini del progetto bianconero, e devo dire non mi dispiacerebbe vederlo con la maglia rossonera come alternativa a Morata, perché è un giocatore che ha qualità, che si esalta col 4-2-3-1, ha fatto molto bene in passato, è stato condizionato da brutti infortuni, sì, però se trovasse quella continuità, e al Milan potrebbe essere un'ottima alternativa a Morata, potrebbe essere un elemento, ma ripeto al netto che la Juve riconosca per età, per futura crescita, una valutazione alta e definitiva di Calulu. Però questo è fantamercato, questo è quello che diciamo noi di rubrica rossonera, la trattativa vera e propria è che la Juve vuole Calulu, che il Milan vuole cederlo eventualmente solamente a titolo definitivo, e quindi la Juve che dovrà capire se e come regalare il jolly francese agli ordini di Thiago Motta. Quindi mercato in uscita, mercato in fermento, cardinale è arrivato a Milano, quindi ci saranno ore molto calde tra il fronte entrate e tra il fronte uscite. Rimanete sintonizzati su rubrica rossonera per rimanere sempre aggiornati sul calcio mercato. Rimanete sintonizzati su rubrica rossonera per rimanere sempre aggiornati sul calcio mercato.